Oggi vi faccio vedere come disattivare il riconoscimento facciale in Facebook. Lo faremo modificando una delle impostazioni del social network che disattiverà la funzionalità del riconoscimento facciale, una funzionalità che in effetti è stata ben pubblicizzata dal social network ma che alcune persone possono aver accettato e attivato senza farci troppo caso. In questo video vi farò vedere proprio come si disattiva questa funzione per evitare che il sistema riconosca il vostro volto in video e foto e quindi possa analizzare tutti i vostri dati biometrici per avvisarvi qualora qualcuno dovesse pubblicare un contenuto in cui ci siete voi. Farlo è veramente molto semplice. Tutto quello che dovrete fare sarà avviare l'applicazione ufficiale di Facebook, selezionare l'icona in basso a destra per entrare nelle impostazioni della privacy. È proprio in questa sezione che dovrete scorrere in basso fino a trovare la voce di riconoscimento facciale. Entrati nella sezione di questa funzionalità non dovrete fare altro che selezionare l'unica riga che è presente e scegliere la voce NO. Da ora in poi Facebook non effettuerà l'analisi delle vostre foto e non vi avviserà quindi se qualcuno pubblicherà una foto o un video contenente la vostra persona e la vostra immagine. Io sono Dario Caliendo, l'appuntamento al prossimo video di TechFanPage. Grazie. Grazie. Grazie.